video assolutamente non sponsorizzato da nessuna azienda del broker più economico che ci sia adesso in Italia in amministrato e che ha una marea, una marea, una marea di cose che potete andare a tradare obbligazioni, azioni, opzioni, derivati CFD se proprio volete farlo ma non ve lo consiglio ragazzi è in amministrato ma potete decidere come ogni intermediario italiano se farlo anche in dichiarativo non scappate perché ve ne devo dire delle belle la bellezza è che io questo broker ce l'avevo già ma poi l'ho chiuso perché le tariffe erano molto alte e allora cosa ha fatto lui? loro hanno detto, insomma di questa sim, hanno detto Pasquale ha chiuso il conto ma passiamo le tariffe perché se se ne va Pasquale col suo patrimonio di poche migliaia di euro dobbiamo fargli proprio il dispetto, di chi parliamo oggi? parliamo di BG Saxo vi parlo prima, vi faccio vedere un attimino quella che è la immagine della piattaforma di Trader Go ma parliamo prima cosa è successo nel frattempo e parliamo soprattutto della parte che ci interessa le tariffe, perché prima pagavo 9 euro per ogni operazione adesso ragazzi 1 euro 1 euro per la cina americana, 2 euro per quelle italiane, 7 euro per le obbligazioni ma andiamo a vedere le cose con calma prima di tutto cos'è Saxo Bank? è una joint venture da BG Saxo che è un'azienda, una banca enorme a livello europeo che addirittura è una di quelle banche che dà i risultati, i dati in tempo reale alle varie piattaforme di trading per cui è una banca abbastanza importante, danese, danese garantì Prodex Fund di 100 mila dollari cioè danese ma che dà, per chi appunto apre Saxo Bank direttamente 100 mila euro di salvaguardi su depositi perché è una banca un po' come Interactive Brokers solo per i grandi investitori è stata pensata all'inizio e poi si è adeguata anche ai piccoli investitori più di un milione di clienti è regolata da tante associazioni finanziarie europee e mondiali insomma è una banca di un certo livello perché vi faccio vedere Saxo Bank prima? perché vi faccio capire di chi è la joint venture? la joint venture appunto è fra Saxo Bank che fornisce quasi 70.000 strumenti finanziari fra obbligazioni, azioni, derivati particolari come anche i CFD ma non vi deve interessare secondo me, l'obbligazione l'ho detto, opzioni europee, americane, un po' di tutto il mondo e banca generali che quotata in borsa dal 2006 gestisce 99 miliardi di euro di masse per conto di oltre 349 mila clienti e questa storia è appunto la partnership tra banca generali e Saxo Bank e nasce BG Saxo conto broker che ho avuto in passato ma come vi dicevo era abbastanza caro ma adesso le tariffe sono abbassate parecchio e andiamo a vedere le tariffe quali sono sono tra i livelli tariffari bronze, i poveracci e nuovi clienti silver e gold bronze vale per i nuovi clienti ed è una tipologia di tariffario che rimane mantenuta sempre così sempre anche se avete pochi soldi o fate poche transazioni poi abbiamo silver perché ha almeno 200.000 euro investiti e poi gold perché ha un milione di euro investiti diciamo che alla fine le differenze sono poche in termini di queste tipologie di tariffe azioni etf 1 dollaro di commissione se siete bronze obbligazioni 7 euro opzioni 2 dollari future 3 dollari ovviamente se investite in titoli americani vediamo tutte le commissioni a questo punto andiamo a vedere le azioni e gli etp quindi etf, etc ed etn bronze, stati uniti 1 dollaro otc pink sheet 1 dollaro canada 5 dollari canadesi italia 2 euro minimo se non lo 0,08% io ho fatto delle prove e vi dico se dovete fare transazioni per risparmiare il più possibile vi conviene stare sotto i 50.000 euro di transazioni di volta in volta ma questo lo vedrete a breve quando facciamo una simulazione perché si può aprire anche il conto demo e poi vi faccio vedere come si fa e avrete 100.000 dollari demo per provare a usare la piattaforma e vedere come funziona comunque dicevo Francia Aeronext 2 euro Olanda 2 euro Portogallo 2 euro Belgio 2 euro tutte le azioni europee a 2 euro Germania 3 euro su Xetra LSE 3 pound cioè veramente roba da poco Spagna minimo 5 euro Austria minimo 5 euro Francoforte e altri mercati tedeschi 5 euro Svizzera 3 franchi svizzeri Gran Bretagna per gli altri exchange 0,08% minimo 3 dollari Repubblica Ceca 75 corone credo che siano 3 euro una cosa del genere 10 slot polacchi insomma ragazzi come potete vedere costa poco anche l'Irlanda 5 euro cioè veramente veramente poco Asia Pacifico 3 dollari australiani per la nuova borsa di Sydney 15 dollari da Hong Kong per le transazioni su Hong Kong 15 yuan in Cina 3 dollari di Singapore per quanto riguarda Singapore Giappone 800 yen che sono circa 4 euro se non ricordo male obbligazioni trovate quelle italiane quelle europee 7 euro fino a 50.000 euro di transazione dollari usa 7 dollari fino a 50.000 dollari obbligazioni inglesi minimo 5 pound 0,12% e poi ci sono anche le obbligazioni di Singapore Australia, Svizzera, Danimarca e obbligazioni in valute secondarie se le trovate comunque sono intorno ai 5 euro 5 dollari opzioni bronze in euro solo 75 centesimi solo 75 centesimi in dollaro 2 dollari in sterline 3 sterline franco svizzero 3 e questo è una delle poche cose che cambia se andate a fare delle opzioni estere infatti come potete vedere da 2 dollari per il bronze si dà a 75 centesimi ma se avete un milione di euro di patrimonio personale insomma 25 centesimi rispetto al silver o 1 dollaro e 25 rispetto al bronze insomma non fa nessuna differenza a mio parere dovete muovere veramente delle masse enormi future per chi interessa anche questi si parte da 3 euro 3 dollari 3 sterline c'è Fedino a riguardo però il minimo è 10 dollari se non 15 dollari canadesi 20 dollari canadesi per quanto riguarda l'Italia e l'Europa siamo sui 10 euro non mi interessano sinceramente non ve le faccio vedere se volete poi andate sul sito di Bigisaxo in cosa è migliorata la piattaforma vi faccio vedere un trade simile a quello che potreste fare voi anzi più di uno e poi vi faccio vedere anche come fare se volete aprire un conto demo come ho fatto io con i centomila cosa sono euro o dollari centomila euro di demo e provare la piattaforma perché secondo me metterci le mani è molto più semplice vi ricordo che non è un link affiliato ok ve lo faccio solo insomma per formarvi quando cercate uno strumento da qui in alto se digitate per esempio ISP io l'ho già fatto in testa san paolo potete trovare i vari strumenti opzioni azioni equiti quindi cfd cliccando però su azioni avete qui il prezzo reale borsa italiana viene eseguito con 20 minuti di ritardo ma vi fa vedere anche su questa menu a tendina su quale altre borse può essere tradato tipo su xe3 il ritardo è di 15 minuti sta a voi decidere qui trovate anche gli altri strumenti su cui è tradato questo editolo per cui il cfd e le opzioni potete fare anche un'altra cosa cliccare qui su contrattazione e decidere cosa andare a tradare le azioni i cfd o le opzioni in questo caso vi dicevo che sotto i 50.000 pagate 2 euro giusto? proviamo a fare una prova se andiamo qui a fare il calcolatore volete comprare 49.900 euro di azioni di in testa san paolo quindi sono 13.097 azioni come potete vedere le commissioni saranno solo 2 euro e andate a spendere questo più la transazione di 2 euro se andiamo più avanti con il numero di azioni guardate un attimo come cambia adesso forse dobbiamo fare un qualcosina un po' più tipo 13.150 esatto allora come potete vedere 13.125 sono 40 euro se andate a mettere invece 13.123 quindi sotto le 50.000 euro di transazione pagate solo 2 euro invece di 40 quindi sta a voi a poi gestirvi la situazione volessimo magari fare un'opzione su in testa san paolo e magari venderci una put magari quante ricordatevi che le azioni europee sono mille azioni quindi dovete moltiplicare il valore dell'azione per mille diciamo che ne vogliamo vendere una noi incasseremo 54 euro e l'immagine sarà di 445 euro e qui in basso trovate un update che prima non c'era quando avevo il conto e il disc graph vi fa vedere qual è la possibilità che voi andiate in positivo su questa operazione quindi in questo punto se io piazzassi l'ordine mi darebbe tutto quello che è l'opzione che sono andato a confermare e confermando andrei appunto a inserire questa opzione qui comparirà negli ordini se invece volessi comprare delle azioni di Intesa San Paolo andando qui acquistassi a mercato non so mille azioni come vedete 2 euro di transazione piazzerei l'ordine conferma e mi troverei appunto poi l'ordine qui inserito e nelle posizioni adesso che appunto è avvenuto questa transazione Intesa San Paolo ora il mercato americano è chiuso però potrei andare a fare di vedere di vendere un'opzione su qualche azione americana prendiamone una che è andata male in questi periodi Medical Property Trust ok mpw andiamo direttamente su opzione e qui ci fa tutta la catena delle opzioni io trovo questo discorso abbastanza complicato infatti quello che sempre facevo io andavo a semplicemente ricercare lo strumento Medical Property Trust azioni e poi su contrattazione andavo a scegliere le opzioni in questo caso io posso vendere una put quindi abbiamo fatto opzioni vendere una put ne mettiamo a 5,50 e ne prendiamo diciamo 10 possiamo vedere che le commissioni sono 20 dollari e 47 e incasseremmo 20 dollari in questo caso come potete vedere non ci conviene quindi dovremmo spostare almeno 10 giorni più avanti per pagare 20 e incassare 70 quindi 50 dollari netti nel caso in cui nessuno appunto nel caso in cui il prezzo non raggiungesse quei 5 dollari e 50 quindi vendiamo la put e più avanti ci troveremo quest'ordine qui quando questa sarà eseguita parlavamo di obbligazioni proviamo a scrivere un BTP Italia per esempio io ho cercato questo prima BTP Italia questo è l'ISIN BTP 385 scadenza 1 settembre 2049 adesso sta sotto la pari se io volessi contrattarlo lo potrei prendere acquistato al mercato adesso avete visto è entrata l'opzione di intesa acquistassi che ne so 3 contratti ricordo che fino a 50.000 euro voi pagate sempre 7 euro per cui se avete non so 40.000 euro pagherete 7 euro ovviamente non lo faccio qui mettiamo 10.000 giusto per fare esempi valori di mercato 9.983 interesse maturato liquidità disponibile e imposte mercato acquistiamo piazziamo l'ordine e come potete vedere qui ho pagato solo 7 euro e ovviamente poi avremo qui tutti i nostri strumenti qui abbiamo l'ordine che ancora deve essere eseguito la vendita della put su Medical Property Trust lo storico degli ordini le eventuali posizioni chiuse e poi possiamo andare a vedere anche qui quello che è il conto per cui l'utilizzo del margine alcune notizie particolari qui abbiamo anche il vecchio conto design che ci va a dire quello che è il nostro portafoglio che è stato cambiato adesso non vede dati perché ovviamente a fine giornata vedete l'aggiornamento del vostro portafoglio con composizione la reportistica le performance che ovviamente essendo qui non si può vedere e così via qui possiamo anche andare ad attivare quello che è lo scudo del conto cioè selezionare entro quanto poi questo conto deve essere guardato per evitare che vada a schifio e qui potete vedere la locazione del portafoglio liquidità obbligazione azione opzione su azione e così via con un transaction report che adesso siccome ho fatto solo questa operazione ovviamente non vedete ecco spero di avervi dato qualche idea un po' su come è adesso PG-Sax o quali sono le sue tariffe perché ovviamente sono cambiate di parecchio rispetto a quando ho fatto l'ultimo video tanto tempo fa per cui non voglio invogliarvi ad aprire il conto anche perché non è un link affiliato però comunque mi sembrava giusto farvelo rivedere perché mi sembrava un'ottima opportunità rispetto a Interactive che è in dichiarativo avere tutti questi strumenti in amministrato se questo contenuto ti è piaciuto puoi sostenermi in tutti i modi che vuoi donazioni o iscrivendoti e condividendo questo video per farlo vedere a più persone o semplicemente usando gli altri link affiliati che trovi in descrizione come sempre ti ricordo che ti voglio tanto bene e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao